La CGL è in visita ispettiva nelle case circondariali di Avellino e Reano Erpino. Serve personale. Questo è emerso dal sopralluogo a cui ha partecipato anche il responsabile nazionale Prestini. Preoccupano inoltre i problemi strutturali dei due istituti. Abbastanza complicata per ambe due gli istituti. Siamo stati questa mattina a visitare l'istituto di Avellino, un istituto che ha avuto l'apertura di un padiglione, situazione molto simile a quella che succede qui a Reano, e non ha avuto un incremento di personale. Per quanto riguarda Avellino dobbiamo dire che la cosa che preoccupa di più è che rispetto a quelle che sono state le modifiche normative apportate dal governo in materia di sovraffollamento detentivo, mentre c'è a livello nazionale un calo nella presenza dei detenuti. Siamo passati da circa 70.000 detenuti a poco più di 50.000. In quell'istituto sembra che invece il sovraffollamento resti lo stesso. Abbiamo avuto punte massime negli anni passati di 650, oggi abbiamo ancora 630 detenuti. Ad affrontare tutto questo sono lasciate poco più di 276 persone del livello degli agenti assistenti, non c'è stata una modifica dell'organico e di conseguenza è stato aperto un nuovo padiglione con nuovi posti di servizio utilizzando lo stesso personale. In più il problema maggiore di quell'istituto è sicuramente che il nuovo padiglione è una struttura moderna e ovviamente all'avanguardia. Tutto il resto dell'istituto è il classico carcere degli anni 90, che dopo pochi anni è diventato impresentabile, di conseguenza ha delle infiltrazioni, ha dei problemi anche rispetto alla sicurezza del lavoro per gli operatori che non sono accettabili ovviamente. Oggi faremo anche la visita qui a Darian Irpino perché come vi dicevo c'è un altro problema. Qui la sezione è stata già aperta e ci sono 200 nuovi detenuti. Non è ancora stato mandato personale. Noi abbiamo a breve, tra pochi giorni, credo 10-15 giorni, una riunione a Roma in cui dovremmo decidere della mobilità del personale di polizia penitenziaria in tutta Italia e di conseguenza vorremmo far presente al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria le problematiche di questo istituto e chiedere un incremento di personale da destinare da qui a poco tempo. Allora, come già detto dal nazionale Massimo Brestini, ripeto e ribadisco quello che ha detto appena poc'anzi. Le criticità sono a livello strutturale necessità di un intervento fortemente strutturale perché il livello della Exe 2.6 legge Decreto 81 sulle sicurezza e sui lavori è veramente pietoso per quanto riguarda il vecchio padiglione. E quindi che proponete come sindacato? Proponiamo noi del sindacato FPCGL di fare questo giro di otture che stiamo facendo delle carceri irpine per poi portare questa problematica a livello provveditoriale e poi a sua volta a livello dipartimentale. Abbiamo una fortissima carenza di organico al ruolo agente assistenti all'incirca 30 unità e si mancano 30 unità e meno 30 siamo nel ruolo sovrintendenti ispettori nello specifico 15 sovrintendenti di meno e 15 sovrintendenti ruoli ispettori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!